Da mesi la richiesta è chiara, scaricare l'app Immune è fondamentale nella lotta alla diffusione del coronavirus. La scoperta, portata alla luce del Corriere del Veneto, dell'impossibilità per un cittadino della regione di segnalare la sua positività al virus in modo da avvertire chi gli è stato vicino del rischio potenziale, fa scattare numerosi campanelli d'allarme. È una notizia grave e preoccupante. Più di 500.000 veneti in queste settimane hanno scaricato questo strumento, questa applicazione pensando di fare una cosa importante per tutelare la salute propria e quella degli altri. Il fatto che non si sia ancora messo in moto tutto il sistema sta esponendo molte persone anche ad un rischio di salute. Non resta solo la CGL nel coro di proteste del mondo politico e civile. Il sistema, a quanto spiegato dalla regione in queste ore, dovrebbe essere operativo. Il problema riscontrato era legato all'iniziale esclusione del Veneto dalle regioni in cui l'app Immune era partita in via sperimentale. La piattaforma è pronta, assicurano dalla Direzione Prevenzione di Venezia. Visti anche i numeri del contagio e la situazione, le proiezioni che ci disegnano una prospettiva molto preoccupante, bisogna fare di tutto per rilanciare la strategia di contenimento del virus. L'app Immuni è uno strumento fondamentale di tracciamento. L'app Immuni è uno strumento fondamentale di tracciamento.